Occorre avere grande equilibrio, grande determinazione, non dare però l'idea ai nostri concittadini e connazionali che la banalizzazione del problema aiuti a risolverlo. È una sfida difficile, l'Italia c'è, siamo un paese solido, un paese forte, un paese che fa i controlli, un paese che ha una grande qualità delle proprie forze di polizia. Chi veste una divisa, e io lo voglio ringraziare, dimostra ogni giorno che passa l'attaccamento al paese. La nostra intelligence è a lavoro con professionalità, rinnovo l'appello alle forze politiche perché su questo tema non ci siano divisioni e litigi, si può discutere di tutto, la campagna elettorale, le leggi, le riforme, tutte cose su cui si può e si deve discutere in democrazia, ma ci sono dei valori fondamentali su cui l'Italia deve essere unita. Io avverto la responsabilità di questo momento e contemporaneamente con la coscienza e la responsabilità che deriva dal mio ruolo dico rimaniamo uniti come paese, abbiamo la forza per poter affrontare questa grande sfida, occorreranno dei mesi e degli anni. E noi siamo totalmente determinati insieme ai nostri partner ad affrontare questa sfida insieme. È stato importante nell'ultimo incontro anche con il Presidente Obama che sia stata evidenziata la situazione della Libia perché la Libia è il simbolo di come le cose non devono funzionare. Si sono fatti dei raid, forse pensando di poter soddisfare l'opinione pubblica di alcuni paesi europei, si sono fatti dei raid e non si è costruito una strategia e da quattro anni la Libia è terra di nessuno. Noi abbiamo bisogno di una strategia di grande intelligenza, di grande presenza, di controllo non soltanto del territorio ma anche di medio raggio dal punto di vista di politica internazionale e di geopolitica. Ci siamo, siamo pronti. Mi fa piacere che ci sia una grande e sostanziale condivisione all'interno della comunità internazionale a partire dal Presidente Obama. È stato un G20 molto importante, molto impegnativo questo di Antalya. Il G20 è l'iniziativa economica che riunisce le 20 principali economie del mondo e quindi affronta innanzitutto le questioni che riguardano la sfera della finanza, dell'impresa e dell'economia tradizionale. Rispetto a un anno fa dove ci eravamo visti in Australia, Brisbane, l'Italia ha fatto dei passi in avanti molto importanti. Non vogliamo sottovalutarli anche perché il riconoscimento di questi sforzi è arrivato direttamente dai nostri partner. Un anno fa non c'era la riforma del lavoro, un anno fa non c'erano le riforme strutturali, un anno fa non c'era la riduzione delle tasse, tutti i impegni che abbiamo preso e poi mantenuto e che hanno portato l'economia italiana dopo tre anni di crisi ad avere il segno più. Naturalmente c'è ancora molto da fare, abbiamo discusso a lungo della riduzione della disoccupazione giovanile, il G20 si è dato un obiettivo di 15% in meno, siamo passati dal 46 al 40, è un numero ancora molto alto, 46 al 40%, dovremo ridurlo ancora. Il G20 ha dato degli obiettivi ambiziosi nella lotta contro la corruzione, contro l'evasione fiscale e mi fa piacere che gli esempi italiani siano stati considerati come delle best practices, cioè come delle occasioni, delle buone pratiche, delle occasioni tra virgolette da copiare. Una volta tanto l'Italia sui temi della corruzione e dell'evasione fa notizia perché fa qualcosa di nuovo. L'ANAC che ha permesso di svolgere Expo insieme all'aiuto di tanti altri e anche la dichiarazione dei redditi precompilata e la fatturazione elettronica che consentono di ridurre l'evasione e di andare a scovare quelli che fanno i furbi. Dunque un risultato credo molto importante. A me pare che la sintesi estrema del G20 sia contenuta una volta di più nel grande invito che ha fatto il Presidente Obama a stressare i valori della crescita, degli investimenti, della mettere più risorse nelle tasche dei lavoratori. Noi abbiamo fatto l'operazione degli 80 euro, abbiamo adesso lanciato la riduzione delle tasse partendo dall'Imu e dalla tasi di prima casa che riguardano per il 75% lavoratori dipendenti o pensionati. Quindi sono più soldi che vanno alle persone che quotidianamente fanno fatica ad arrivare in fondo alla giornata. Dunque più soldi in tasca ai lavoratori, più crescita, più investimenti. È la linea politica dell'Italia, è la linea politica economica che questo Governo ha mandato avanti. Da qui al vertice in Cina che sarà tra dieci mesi, il 4 e 5 settembre del 2016, contiamo di dare il colpo di reni definitivo della ripartenza del nostro Paese. Ma questo credo che serve soprattutto ad un'Europa che ha bisogno non soltanto di austerity, ma ha bisogno soprattutto di crescita. Questo è il leitmotiv economico del G20, crescita, 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 investimenti e più attenzione alle regole con i buoni esempi che vengono dall'Italia della lotta alla corruzione e all'evasione fiscale. La sfida dell'ISIS e la sfida del terrorismo è una sfida molto grande, una sfida drammatica. Tutti noi abbiamo nella mente un fatto molto semplice, che i terroristi stanno colpendo i luoghi simbolo della nostra identità. I terroristi non attaccano degli obiettivi militari. Hanno attaccato un museo a Tunisi, hanno attaccato un'università in Kenya, una scuola in Pakistan e attaccano un teatro, uno stadio, un ristorante a Parigi. Dunque i terroristi puntano a farci paura, puntano a disintegrare le basi della nostra identità. Come si risponde? Non si risponde certo semplicemente con un atto distinto. Occorre naturalmente essere molto determinati, molto duri. Noi saremo totalmente pronti a esprimere questa determinazione e questa tenacia, ma occorre anche avere l'intelligenza, la saggezza e l'equilibrio di parlare alla nostra gente e di dire che questa non è una questione che si risolve come uno schiocco delle dita. Chi ha in mente soluzioni semplicistiche di fronte al più grande problema del nostro tempo non si rende conto di creare soltanto illusione agli occhi degli italiani e degli europei. Dunque occorre una strategia. Occorre dire che il terrorismo è in varie parti del mondo, occorre avere un approccio complessivo e capace di comprendere tutto, dall'Afghanistan alla Nigeria, dalla Libia alla Somalia, fino naturalmente alla Siria all'Iraq. E in questo senso a me pare molto importante che il principio italiano, che era quello, riportiamo anche la Russia al tavolo della discussione, stia finalmente portando qualche risultato. Che non vuol dire delegare alla Russia la risoluzione dei problemi come qualcuno ha immaginato, ma vuol dire sulla base della guida degli Stati Uniti e sulla base della cooperazione con la Russia e le altre potenze, le potenze dei paesi arabi, riuscire tutti insieme come europei ad avere una strategia seria. Ecco, occorreranno mesi, forse anni, per risolvere questo problema. E non crediamo nemmeno alle banalizzazioni. Quelli che dicono che il problema è che arrivano troppi immigrati a casa nostra. Lasciatemelo dire, è sicuramente un tema da approfondire, da affrontare. Nessuna sottovalutazione, massimi controlli, l'Italia è impegnata su questo. Abbiamo fatto quasi 60.000 controlli con le nostre forze di polizia, di carabinieri, la guardia di finanza, che voglio ringraziare per la professionalità. Ma se noi guardiamo gli attentati, spesso vengono fatti da persone che sono cresciute in Europa. Ci vuole poi il pugno non duro, durissimo, contro chi delinque. E da questo punto di vista credo che sia importante sottolineare, ad esempio, che l'Italia ha espulso in un anno 55 persone sospettate di essere degli estremisti. Non è che con questi 55 gli abbia fatto il discorsino sociologico, tu cosa pensi? Se li abbiamo presi, siamo andati a prenderli, li abbiamo caricati su un aereo e li abbiamo espulsi dal nostro paese. Questo è molto importante. Gli italiani sappiano che noi siamo molto convinti che occorra una visione strategica, di lungo periodo, di solidità, di determinazione, ma siamo anche capaci del pugno duro contro coloro i quali non rispettano le regole del nostro paese. Aiutandosi tutti, evitando le polemiche inutili e cercando di valorizzare quanto di buono l'Italia ha e avrà, io sono assolutamente certo che saremo in condizioni di vincere anche questa sfida. Grazie.